Ciao, sono Luca Manelli e in questo breve video voglio spiegarti come poter andare ad arricchire una vista di prospetto o di sezione utilizzando degli oggetti, come quelli che ho inserito io all'interno della vista dell'alzato, che trovi all'interno della libreria standard di Archicad. Se vado ad aprire la finestra settaggi dello strumento oggetto, all'interno della libreria di Archicad ho una cartella nominata giardino. La trovi all'interno della cartella sito e paesaggio visualizzazione. All'interno di questa cartella hai tutta una serie di oggetti dedicati appunto all'inserimento di elementi per il giardino che vanno dagli alberi e cespugli alle fioriere e alle siepi e vi sono varie tipologie di elementi. Vi sono degli elementi che puoi utilizzare a livello tridimensionale come ad esempio l'albero modello dettagliato oppure l'albero modello semplice. Avevo parlato di questi oggetti in un altro video dove facevo vedere come poterli utilizzare per creare la vegetazione di un plastico. Puoi anche usare l'oggetto albero deciduo, quello che ora ho selezionato, per poter inserire un albero, in questo caso è un'immagine perché è un pannello che a livello tridimensionale viene visualizzato come appunto una immagine scontornata. All'interno dei parametri puoi scegliere la tipologia di albero da utilizzare. Ma questa è la visualizzazione del 3d, infatti puoi vedere che nell'anteprima ho attivato l'anteprima 3d. Nel caso in cui invece lo voglio andare a utilizzare all'interno di un prospetto o di una sezione come elemento da poter visualizzare stampare assieme alla sezione o all'alzato, una volta scelto la tipologia di albero basterà andare a lavorare all'interno dei parametri. Posso passare al pannello rappresentazione 2d dove posso scegliere il punto di vista. Il punto di vista ora è impostato con la vista dall'alto, vado a cambiare la visualizzazione dell'anteprima impostando la pianta, come puoi vedere visto dall'alto mi fa vedere l'albero dall'alto, però se vado ad agire su questo menu e scelgo vista lato Archicad mi dà la possibilità di visualizzare l'albero con la vista lato, per cui la vista che vedevo all'interno della finestra tridimensionale. Posso scegliere anche come vista lato la vista lato simbolica. Allora in questo caso i parametri si adattano in maniera tale da poter scegliere all'interno di una serie di tipologie di simboli vettoriali che posso poi andare a utilizzare all'interno del disegno, però in questo caso come dicevo sono dei simboli vettoriali. Se invece torno con la vista lato normale, allora qui ho la possibilità di scegliere tra le quattro stagioni, in questo caso ho attivato l'autunno, posso scegliere l'estate, l'inverno oppure il nebbioso. Se vado a scegliere ad esempio l'autunno, una volta che ho impostato l'hotspot di inserimento, confermando con ok, posso andare a inserire il mio oggetto all'interno dell'alzato. Una volta inserito puoi vedere che in automatico viene scontornato e si va a posizionare all'interno del disegno facendo visualizzare gli elementi di disegno che vi sono al di sotto della simbologia. Posso spostarlo anche davanti a degli elementi e questo albero andrà a posizionarsi in maniera tale da poter vedere gli elementi che ho nella parte retrostante. Se dovessi poi intervenire, andare a scegliere magari o l'effetto inverno oppure l'effetto nebbioso, abbiamo appunto la possibilità di avere un effetto grafico che può essere particolarmente interessante e non troppo invasivo per poter ambientare l'alzato o la sezione.